Davide Astori è morto per cause naturali, il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi e quanto emerge dal primo referto consegnato alla procura di Udine dopo l'autopsia eseguita stamattina sul corpo del capitano della Fiorentina. Deborah Serachiani e Antonella Grimm si dimettono rispettivamente dalla segreteria nazionale e regionale del Partito Democratico. La presidente, atto doveroso e improrogabile, Grimm si candiderà alle regionali. Il giallo degli elaborati del concorso regionale del 2016 per insegnanti della scuola dell'infanzia, secondo fonti sindacali, non tutti sarebbero stati corretti e addirittura ne mancherebbero alcuni all'appello. Sono una cinquantina nella nostra regione i contadini custodi, veri e propri guardiani della biodiversità, tutelano le antiche varietà di mais. Da oggi li rappresenta un'associazione che si occuperà della valorizzazione delle farine di qualità. Massimo Oddo è tornato a vestire i panni del calciatore anche se solo per una ventina di minuti. Durante la partitella di oggi il tecnico è sceso in campo con i suoi come sterro destro. A tutti voi buonasera e bentrovati a questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Dunque è stata eseguita questa mattina l'autopsia sul corpo di Davide Astori e c'è già un primo riscontro, un primo referto che è stato consegnato alla procura di Rudine che confermerebbe l'ipotesi delle cause naturali all'origine della morte del capitano della Fiorentina. Di fatto il suo cuore nella notte avrebbe rallentato fino a fermarsi. Davide Astori è morto per cause naturali e questo il primo verdetto dell'autopsia eseguita sul corpo del capitano della Fiorentina trovato senza vita domenica mattina nella sua stanza d'albergo alla di Morett. Il primo referto consegnato alla procura di Rudine dall'anatomopatologo Carlo Moreschi e dall'esperto padovano Gaetano Tiene ai quali era stato affidato l'esame parla di una morte cardiaca senza evidenze macroscopiche. Sembra quindi che il cuore di Astori abbia progressivamente smesso di battere fino a fermarsi. L'esame iniziato intorno alle 11 è durato poco più di tre ore. I due medici legali però hanno spiegato che per la diagnosi definitiva saranno necessari approfonditi esami istologici e dunque il risponso ufficiale arriverà entro 60 giorni. La procura ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari il fratello Marco e uno zio del calciatore rimasti a Udine proprio per sbrigare le pratiche per il trasferimento mentre i genitori e gli altri parenti ieri erano rientrati a casa nel Bergamasco. Domani il feretro arriverà a Coverciano dove sarà allestita la camera ardente. I funerali di Astori si rientranno giovedì alle 10 nella Basilica di Santa Croce a Firenze dove per ordinanza del sindaco Dario Nardella è stato proclamato lutto cittadino per l'intera giornata. Poi il capitano Viola riposerà in provincia di Bergamo dove vive la famiglia. Siamo ora alla pagina politica con l'effetto delle elezioni nazionali. Conquista un posto in Parlamento ma si dimette dalla segreteria nazionale del partito. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi che ieri pomeriggio a seguito dell'esito delle politiche ha annunciato che si dimetterà da segretario nazionale del Partito Democratico. Oggi anche Deborah Serracchiani presidente del Friuli Venezia Giulia ha fatto un passo indietro. La luce del risultato delle elezioni per senso di responsabilità nei confronti di tutta la comunità del partito ho preso la decisione di dimettermi. Ha fatto sapere in una nota diffusa in mattinata. Oggi stesso aggiunto farò pervenire al segretario nazionale la lettera formale con cui comunico un atto che reputo doveroso ed improrogabile. E non sono queste le uniche dimissioni in regione perché analoga decisione è stata assunta da Antonella Grimm, segretaria regionale del PD. È stata lei stessa ad annunciarlo durante una conferenza stampa. Ritengo corretto farmi carico personalmente di un segnale di responsabilità rispetto a quanto accaduto con le elezioni. Ha spiegato si tratta di una decisione irrevocabile ed una scelta personale ma il mio impegno in politica ha assicurato continua e ha durante la conferenza stampa Grimm ha annunciato che presenterà la propria candidatura alle prossime elezioni regionali. La decisione di candidarsi al Consiglio regionale è stata presa anche per poter continuare a rappresentare auspicabilmente il mio territorio ha detto Grimm. E si sono ufficialmente concluse solo nel primo pomeriggio le operazioni di spoglio delle elezioni politiche 2018. Il Friuli Venezia Giulia schiera 20 rappresentanti in Parlamento, 13 alla Camera, 7 al Senato. Il maggior numero di nuovi onorevoli è stato espresso dal centrodestra che ha ottenuto 14 poltrone mentre Movimento 5 Stelle e PD hanno ottenuto rispettivamente tre seggi. Sono 20 gli onorevoli che rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia in Parlamento, 7 al Senato e 13 alla Camera. All'uninominale il centrodestra ha sbaragliato la concorrenza in tutti i collegi conquistando 7 posti su 7 grazie anche alla forza travolgente del Carroccio, primo partito a livello regionale. Alla Camera Renzo Tondo si prende la vincita con ben 13 punti di margine su Deborah Seracchiani a Trieste. A Gorizia si impone Guido Germano Pettarin con il 37,13%. A Udine eletto Daniele Moschioni della Lega con il 43,36%. A Codroipo netta affermazione di Sandra Savino di Forza Italia che ottiene il 47,89%. A Pordenone la spunta Vanni Agava con il 46,22%. Al Senato nel primo collegio quello di Trieste eletta Laura Stabile con ampio margine su Riccardo Illi. Nel secondo collegio quello friulano eletto Luca Ciriani con il 46,58%. Entra al Senato ma grazie ai voti del collegio di Milano 1 anche Tommaso Cerno candidato del PD anche nella nostra regione. 13 invece i seggi calcolati con il sistema proporzionale nel quale hanno pesato anche i voti non assegnati alle liste che hanno superato l'1% ma sono rimaste sotto la soglia del 3%. Tra i banchi della Camera si siederanno Massimiliano Fedriga e Massimiliano Panizzut per la Lega, Roberto Novelli di Forza Italia, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia, Sabrina De Carlo e Luca Sud per il Movimento 5 Stelle, Ettore Rosato e per un soffio la presidente Deborah Seracchiani per il PD. Al Senato eletti Mario Pittoni e Raffaella Fior Maria Marin della Lega, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia, Franco Dalmas di Forza Italia, Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e Tatiana Roic del PD. Un mese fa si era dimesso da tutte le cariche ricoperte nel partito, oggi Cristiano Sciaurli esponente della Giunta Serracchiani chiede al Partito Democratico di riavvicinarsi ai cittadini. Non abbiamo ancora capito chi ha vinto, sicuramente abbiamo capito chi ha perso. Ha perso il Partito Democratico, devo dire ha perso anche la coalizione e oserei dire anche una visione progressista di centro-sinistra nel nostro paese. Quindi probabilmente va rideclinato completamente il modo di rapportarsi con i cittadini, le scelte che si mettono in campo soprattutto sulle politiche nazionali e va fatto una severa e seria autocritica. Io mi sono sospeso dalla segreteria già un mese fa, quindi diciamo che i problemi mi erano tra virgolette ben noti, noi abbiamo bisogno di ripartire. Chi ci ha voltato le spalle, ahimè, probabilmente è proprio quella fascia della nostra popolazione più in difficoltà, quella che ha subito di più i morsi della crisi. Dobbiamo tornare probabilmente anche a confrontarci, anzi non probabilmente, soprattutto a confrontarci con quel ceto sociale che sostanzialmente è quello in cui storicamente il centro-sinistra, le forze progressiste hanno sempre saputo essere più vicine. Lei se lo vede Renzi a fare solo il senatore di Scandicci? No, non me lo vedo assolutamente e sono convinto che non sarà così, ma è anche giusto che sia così e è anche giusto che Renzi continui a proporre e a portare avanti la propria posizione, nella propria visione anche di un centro-sinistra. Io sono convinto però che i segretari cambiano, i partiti restano e il centro-sinistra resta. Io ovviamente non ho mai sostenuto Renzi e non comincerò ora, ma sono convinto che anche serva una visione nuova e serva a mettere in campo un nuovo centro-sinistra. E ascoltiamo ora le prime parole da neodeputato di Guido Germano Pettarin, già assessore di Gorizia. La prima cosa che tengo assolutamente a dire è di ringraziare Giorgio Brandolini, perché è il primo che stamattina mi ha telefonato, in ore molto vicine a quando è arrivato a casa, dalla nottolata, e scusatevi il termine, passato in seggio, è stato proprio Giorgio che mi ha fatto i suoi complimenti, i suoi auguri per quanto riguarda il lavoro da fare a Roma. Un ringraziamento grandissimo alla coalizione e alla squadra, è stato un lavoro di insieme importantissimo. Sono 15 anni che nella città di Gorizia si sta seminando e seminando e seminando e la seminagione fatta a Gorizia ha avuto il pregio di riuscire a diffondersi sul territorio regionale, di essere la matrice poi dei successi importantissimi, prima a Pordenone, poi a Trieste, poi a Monfalcone, poi a Cormons, poi a Duino e poi a Gorizia con la riconferma che abbiamo avuto. Quindi è assolutamente sacrosanto evidenziare che siamo di fronte alla possibilità di una filiera che ci metterà in condizione di essere ancora più efficienti di quanto non abbiamo potuto essere finora. I risultati di queste elezioni credo che fossero da pochi preveduti così come si sono venuti effettivamente a sviluppare. Sappiamo benissimo quali sono i numeri della coalizione di centrodestra e quali sono i numeri del Movimento 5 Stelle che da solo ha avuto un successo veramente inaspettato. Sono confidente che a fronte di questa situazione le persone di buon senso si sideranno attorno a un tavolo trovando il modo di dare da subito un governo coerente e non un governo di inciucio al nostro Paese per permetterci di risolvere i temi che abbiamo, che sono molti, che sono molto importanti e per cui la gente ci ha dato un mandato estremamente chiaro che è quello che la notte scorsa abbiamo visto svilupparsi nei seggi. La cronaca viaggiavano in auto con considerevoli quantitativi di cocaina e hashish. La coppia, un campano e una donna rumena, entrambi poco più che trentenni residenti nell'Isontino, è stata fermata per un controllo dalla polizia di Gorizia al casello di Monfalcone Ovest. Nascosti nella Fiat Croma sono spuntati un pacco con dieci panetti di hashish del peso di un chilo, una confezione con 50 grammi di cocaina e due sacchetti con 110 grammi di cocaina. La coppia è stata arrestata e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare materiale utilizzato per il taglio, la pesatura e il confezionamento delle dosi di droga, denaro e un revolver calibro .88 con relativo munizionamento oggetto di un furto in un'abitazione nel napoletano. La droga sequestrata, il cui valore di mercato supera i 20 mila euro, una volta ceduta al dettaglio avrebbe reso una cifra considerevolmente più alta. Nel mese di febbraio i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Udine hanno intensificato i controlli nelle aziende che operano nel settore della gestione dei rifiuti. Sono stati effettuati otto controlli in tutta la regione e dagli accertamenti non sono emerse situazioni di criticità particolari. le ispezioni continueranno anche per tutto il mese di marzo. Due pregiudicati sono stati arrestati lunedì pomeriggio dai carabinieri di Aviano. Galliano Boschian, 55 anni, residente ad Aviano, dovrà scontare una pena di inclusione di 20 giorni ai domiciliari con possibilità di allontanarsi solo per motivi di lavoro per non aver rispettato il foglio di via dai comuni di Budoia e Polcenigo. Il 37enne Fabio Bianchi invece residente pure lui ad Aviano dovrà scontare una pena di sei mesi perché è condannato per favoreggiamento personale nei confronti di un fornitore di eroina, fatti che risalgono al 2014. All'alba del 25 febbraio aveva causato un incidente a Pordenone planando su quattro auto in sosta poi si era dato alla fuga. L'uomo è stato però rintracciato dalla polizia e denunciato. L'uomo che ha causato l'incidente a Pordenone lungo la Pontebana all'altezza del bar Laghetto planando su quattro auto e dileguandosi è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. Si tratta di un cittadino statunitense di 21 anni militare in servizio alla base USAF di Aviano. Dovrà rispondere di fuga, omissione di soccorso e lesioni colpose. I fatti risalgono all'alba di domenica 25 febbraio. Il giovane era la guida della BMW 300 che in via Quileia a Pordenone era uscita di strada all'altezza della rotonda andando a sbattere sulle auto in sosta nel parcheggio del locale, aperto 24 ore su 24. Nell'incidente era rimasta coinvolta una ragazza, si trovava all'interno di una macchina in sosta e aveva riportato lievi ferite. Il conducente si era dato alla fuga a bordo di un'altra auto, giunta nel frattempo sul posto, nonostante uno dei testimoni avesse cercato di fermarlo, rimanendo anche lui lievemente contuso nella collutazione. Le indagini avviate dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, hanno consentito di identificare due cittadini statunitensi, l'autore del sinistro e il conducente dell'auto usata per la fuga, un collega 21enne del militare che è stato denunciato per favoreggiamento personale, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e lesioni dolose. Tamponamento fra due mezzi pesanti e un furgone, verso le 16 oggi in A4 tra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia, nessuna conseguenza per le persone fortunatamente, ma diversi disagi per la circolazione. È stata istituita l'uscita consigliata a Portogruaro, le code hanno raggiunto i 7 chilometri. Ed ora un aggiornamento per quanto riguarda la pagina politica, c'è ancora un capitolo aperto in Friuli Venezia Giulia che riguarda il nome del candidato presidente per il centrodestra. Ci sono delle dichiarazioni di oggi di Massimiliano Fedriga della Lega, come sempre sono a disposizione per la candidatura a presidente del Friuli Venezia Giulia per il centrodestra. Ha detto, dopodiché faremo una valutazione con la coalizione e decideremo insieme. In vista dell'appuntamento del 29 aprile, Fedriga ha assicurato che la scelta del nome avverrà entro la settimana. In campagna elettorale ha aggiunto, correrò come se fossi candidato, sia che lo sia io, sia che non lo sia. Poi ha precisato, prima della persona è importante che ci sia una vera squadra e che si raggiunga il risultato insieme. Ed ora parliamo del giallo degli elaborati del concorsone regionale del 2016 per insegnanti della scuola dell'infanzia. Secondo fonti sindacali non si troverebbero diversi elaborati. Dove sono finiti degli elaborati del concorso del 2016 destinato agli insegnanti della scuola per l'infanzia del Friuli Venezia Giulia? Se lo chiedono alcuni candidati che attendono notizie sull'esito dell'esame. Qualcuno si è rivolto al sindacato di categoria al quale si sente più vicino per avere chiarimenti sulla questione. Il segretario regionale della CGL Scuola, Adriano Zonta, dichiara di voler fare chiarezza sulla vicenda e al tempo stesso elogia il dirigente scolastico regionale e tutto il suo staff per la grande mole di lavoro che deve affrontare quotidianamente. E sulle cause dell'accaduto azzarda un'ipotesi. Che sia solo una questione di organizzazione legata alla vicendarsi delle commissioni che dovevano correggere gli elaborati? Sta di fatto che a due anni dal concorso pare che non tutti gli elaborati siano stati corretti. Sensazione o dato di fatto? Dall'altra parte Ugo Previti, segretario della UIL Scuola, evidenzia la carenza di personale degli uffici scolastici territoriali. Il sindacato ha stimato che negli uffici scolastici territoriali manca almeno il 50% del personale necessario, afferma il rappresentante UIL, e che alcuni dirigenti di tali uffici hanno un contratto che si rinnova di tre mesi in tre mesi. La sua scadenza è prevista per i primi giorni d'aprile e ancora non si sa se sarà rinnovato o meno. Ora c'è attesa per avere il quadro generale degli organici per il prossimo anno. Le scuole devono consegnare entro venerdì prossimo le valutazioni sul numero di insegnanti di cui avranno bisogno in rapporto agli iscritti. Ma al momento non ci sarebbe alcuna circolare nuova sul numero effettivo degli organici stabiliti a livello regionale, a meno che il Ministero non consideri valida quello dello scorso anno. Presentato oggi nella sede udinese della Fondazione Friuli, il punto e impresa, uno sportello dell'Ateneo Friulano, che mira a facilitare i contatti con il mondo dell'impresa. All'obiettivo di facilitare i contatti tra il mondo accademico e le aziende e industrie friulane è il punto impresa, il nuovo sportello aperto dall'Università di Udine all'interno del progetto Cantiere Friuli. Abbiamo voluto nell'ambito dei Cantiere Friuli creare una struttura che appunto si chiama punto impresa, che è un punto di riferimento per le imprese su tre fronti, il fronte della ricerca, il fronte del recruitment, cioè del reclutamento o del placement, dal punto di vista dell'inserimento al mondo del lavoro dei ragazzi e il terzo il tema della didattica congiunta finalizzata alla formazione all'interno delle imprese. E quindi un punto unico di riferimento, una specie di punto di smistamento, un punto di raccordo. Noi questo l'abbiamo fatto per semplificare i rapporti perché spesso sono legati alle conoscenze singole dei docenti, in questo modo facciamo un database centralizzato di tutti quanti i rapporti con le imprese sul fronte della didattica, della ricerca e del reclutamento. Ci sembra un'ottima iniziativa nello spirito di Cantiere Friuli, cioè di ricostruire l'assetto produttivo e anche conoscitivo del sistema Friuli. Lo sportello ha già avviato una stretta collaborazione con l'ente regionale, organizzando una serie di incontri con le aziende. Punto Impresa sarà attivo all'interno di Palazzo Antonini ogni mattina dalle 9.30 e si potrà contattare attraverso l'indirizzo mail puntoimpresa-uniud.it. Si avvicinano a conclusione i lavori per la ristrutturazione dell'area del vecchio asilo nel parco del quartiere feristico di Torreano di Martignaco. Qui sorgerà un orto botanico, la provincia di Udine, mandante dei lavori, non vedrà però la fine del cantiere. I lavori stanno rispecchiando quel che è il cronoprogramma con la posa della prima pietra del 25 settembre al 2 giugno che è prevista la fine. I lavori qui edilizi che sono alle mie spalle, che riguardano il vecchio asilo del cotonificio udinese, sono a buon punto. Adesso sta arrivando la copertura per cui dopo si procederà con la realizzazione degli impianti e le rifiniture esterne. Stanno iniziando anche lavori di riqualificazione del parco monumentale di 64.000 metri quadri che racchiudono un patrimonio botanico straordinario con 250 piante censite di grande pregio botanico così come anche la serra con la pensilina sul canale Ledra, la nuova serra dell'orto botanico friulano, 470 metri quadri più l'edificio Attiguo che serve per la ricerca scientifica che sono 70 metri quadri su tre piani. Anche quelli adesso hanno inizio a brevissimo la loro posa. Quindi tutto sommato, al di là di qualche breve ritardo, se vogliamo, più dovuto al maltempo e alle condizioni comunque, lavorando in natura sostanzialmente, evidentemente certe condizioni vanno rispettate, però sostanzialmente le previsioni si stanno quasi rispettando. Sarà come dire il patrimonio di congedo che la provincia di Udine lascerà al proprio territorio un'opera importante, ricordo il costo di 2 milioni di euro, che permetteranno appunto sia per quanto riguarda l'attività dell'ERSA ma anche la facoltà dell'Università di Udine, degli studi di Udine, di poter avere una struttura e un luogo idoneo per proseguire in un'importante ricerca scientifica, soprattutto per i nostri studenti. Sono una cinquantina nella nostra regione i contadini custodi delle antiche varietà di mais, veri e propri guardiani della biodiversità. Una decina di produttori si è riunita in associazione. Sono una cinquantina in Friuli, Venezia, Giulia, i contadini custodi della biodiversità del mais. Coltivano varietà antiche, contraddistinte e spiegano da valori nutritivi molto più alti rispetto agli ibridi, con maggiore adattabilità al territorio e in grado di produrre farine di più elevata qualità. Ora hanno un nuovo punto di riferimento, l'associazione produttori antichi mais friulani, presentata a Udine. Le aziende aderenti al momento sono una decina, molte di più quelle che hanno manifestato l'interesse ad unirsi al gruppo, compresi i mulini, in particolare quelli che macinano a pietra. L'obiettivo è quello di valorizzare queste varietà di mais a libera impollinazione. Due anni fa è stata varata una legge a livello nazionale sulla biodiversità che prevede, oltre alla tutela della biodiversità, la tutela delle vecchie sementi e la nascita dei contadini custodi e di un albo nazionale. Noi tutelando questi antichi mais, sono quelli che sono sopravvissuti agli ibridi, perché a un certo momento sono stati abbandonati da tanti, ma altri li hanno salvati. E noi con questi antichi mai salvati pensiamo che si possano fare dei cibi di qualità, ma anche polenta di qualità che si accompagni a dei cibi che altrimenti ne risentirebbero. Vogliamo fare qualche nome di queste varietà? L'ottofile bianco perla friulano, il marano d'aquileia, il marano di buia che già è molto valorizzato con il pan di sorca, il rosso d'aquileia, il pignoletto della valcosa, la socchievina della carnia, il dente di cavallo bianco, il dente di cavallo rosso. La sezione antichi mais friulani rappresenta una possibilità in più, rappresenta la valorizzazione di quei prodotti che non possono essere copiati dal tobe, che sono certi legati alla nostra storia, alla nostra identità, ma che possono essere davvero dei prodotti che incontrano il gusto del pubblico, che devono e possono essere ulteriormente valorizzate nei nostri esercizi commerciali, nei nostri ristoranti, perché sono la storia, la tradizione del friuli e sono quelle cose uniche che nessuno può copiarci. Ed ora la vignetta preparata per noi da Fernando Venturini. Massimo Oddo è tornato a vestire i panni del calciatore, seppur per poco più di 20 minuti. Durante la partitella a metà campo di oggi, il tecnico ha indossato una peturina arancione, si è posizionato come esterno destro nella difesa a tre, composta anche da Angella Centrale e Samira Sinistra. Alla scena hanno assistito una decina di tifosi presenti nonostante il cielo grigio, la leggera pioggerella, ad una temperatura non proprio invitante. L'udinese ha sostenuto una seduta atletica, alla quale hanno preso parte tutti, tranne gli infortunati Danilo e Lasagna. Durante la partitella finale, in attacco sono stati schierati De Paul e Perizza, da una parte Janto e Maxi Lopez, dall'altra. Ed ora ci occupiamo degli appuntamenti internazionali per l'atletica regionale nel weekend appena trascorso. Otto titoli sono stati assegnati a Udine nei campionati regionali ragazzi e ragazze. Due doppiette tra le ragazze. Elisa Bagnoli, dell'atletica Malignani-Liberta-Sudine, ha trionfato nei 60 metri piani e nel salto in lungo, mentre Chiara Griot, del Triveneto-Trieste, ha vinto nel salto in alto e nei 60 ostacoli. Tra i maschi si è giudicato i 60 metri piani in Irai-Turrin di Porcia, Andrea Moras di Azzanodecimo i 60 ostacoli. Luca Bombardier della Libertas-Tolmezzo al salto in alto e Martino Boezze della Gemona Atletica al salto in lungo. A Nani, invece, si è disputato il triangolare Francia-Italia-Germania, con numerosi nostri atleti tra gli azzurri. A far registrare il miglior risultato, Simone Biasutti, che ha migliorato di 10 centimetri il già suo record regionale assoluto nel salto triplo. Bene anche Rebecca De Martini nell'asta, mentre giornata da dimenticare per Rossi e Sansa nel salto in lungo. Sul campo all'aperto, grande risultato per Alessio Di Blasio, che ha raggiunto la distanza di 65,39 metri nel giavellotto. Isabella Martini, se al contrario, incappa in una giornata no al martello. Ad Ancona sono dati battagli i cadetti nell'ottavo trofeo ai confini delle Marche, con 11 rappresentative regionali. I ragazzi friulani sono arrivati quarti, mentre le ragazze addirittura terze, per una classifica complessiva che vede la nostra regione alle spalle solamente di Veneto, Lazio e Toscana. Ha vinto Alessandro Feruglio nel peso, Argento per Caterina Camossi nei 60 piani, Giada Bressan nei 60 ostacoli, Ginevra Pase nel salto in alto e Alessandro Padovan nell'asta. Terzo posto per Alberto Nonino nel tetratlon, Elisa Gortani nei 600 e Thea Civardi nel salto triplo. Per tutti gli altri risultati l'appuntamento è su Start, con Renato Bonin, in onda dalle 23. E prima di chiudere ancora un aggiornamento per quanto riguarda la pagina politica, perché sono arrivate le dichiarazioni anche di Sergio Bolzonello, che è candidato per il centro-sinistra alla presidenza della regione. I nostri concittadini ci hanno fatto capire tutto con enorme chiarezza, vogliono tornare a vedere la politica che sa unire, si sono stancati di diktat e lancia fiamme, ha detto Sergio Bolzonello. Aggiungendo, è vero che sono stati premiati i partiti della rottura e dell'arrabbiatura, questo deve farci capire che non basta dare risposte convenzionali, anche se solide, serve anche saper interpretare i sentimenti delle persone. La mia candidatura a Presidente ha questo senso, serve uno spirito da sindaco per ricominciare, non bastano solo slogan urlati. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale che termina qui, grazie come sempre per la vostra cortese e attenzione. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.